Ciao a tutti ragazzi, da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video voglio parlare della decisione del giurice sportivo che è uscita oggi sulla decisione della partita Juventus-Napoli che non si è giocata un po' di settimane fa perché Napoli non si era presentato in campo perché l'Asdra Napoletana, l'Asdra 2 e l'Asdra 1 e le Asdra Napoletane l'avevano bloccata e Napoli non è potuta partire e avevano tante casine che ne hanno successo e la Juventus invece si era presentata, quindi di conseguenza il giurice sportivo doveva prendere una decisione ed è successo quello che io avevo detto un paio di settimane fa. Il Napoli ha avuto il 3-0 a tavolino, che la partita è andata a vinta la Juve per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione, di conseguenza sono 4 punti persi per il Napoli perché è vero che la partita con la Juventus andava giocata e poi devi vincere, perdere o pareggiare quindi tu dici che può darsi che lo stesso perdevi, però può darsi pure che vincevamo o pareggevamo pareggevamo quindi di conseguenza non è detto che poi perdevamo quindi per me sono 4 punti tolti, non 1 e io l'avevo detto perché io l'avevo detto settimane fa ho detto che secondo me il Napoli avrà 3 punti di penalizzazione più 3 punti a tavolino più 1 di penalizzazione io l'avevo detto, l'avevo detto perché il Napoli aveva violato il protocollo è verissimo che l'ASL comunque è regionale quindi sul protocollo c'era anche scritto che salve eventuali decisioni da parte delle ASL, da parte comunque dei comuni, salve eventuali si vede che questo protocollo che diceva salve eventuali decisioni l'ASL eccetera, le ASL a questo punto non c'entrano niente a questo punto significa che le ASL non hanno potere a questo punto significa che le ASL si devono fare cazzi loro significa che le ASL non hanno potere nel decidere un protocollo fatto dalla Liga e dal FGC comunque era una decisione che l'ASL non ci può entromettere a questo punto abbiamo capito, almeno il Napoli è stato come capo espiatorio che le ASL non si possono mettere in mezzo ma si parla che De Laurentiis ha chiamato lui l'ASL per dire devo partire o non devo partire di conseguenza abbiamo la penalizzazione perché non è stata l'ASL a bloccarci mi è stato De Laurentiis a chiamare l'ASL così dicono e De Laurentiis ha detto che devo fare l'ASL ha detto non partire se non chiamava De Laurentiis il Napoli poteva partire da protocollo e senza l'avviso dell'ASL se davvero De Laurentiis ha chiamato l'ASL i punti sono giusti è giusta la penalizzazione e il 3-0 a tavolino se invece è stato l'ASL a bloccare il Napoli non è giusto perché è l'ASL che non mi ha fatto partire quindi di conseguenza è colpa dell'ASL napoletana e di conseguenza andava fatto una grandissima multa secondo me a questo punto e la partita si doveva rifare perché comunque di conseguenza l'ASL è stata lei a bloccarmi se invece è stato De Laurentiis a chiamare perché aveva paura che tutto il Napoli e il motivo non è perché perdevamo con la Juve senza Zilli Schermas ma che aveva paura che faceva la fine del Genoa che doveva giocare con la primavera per 30 giorni perché i giocatori erano 30 per esempio positivi e di conseguenza giochivamo anche noi con la primavera si è messo paura e ha chiamato lei quindi la situazione cambia vedremo nei prossimi giorni che cosa uscirà su questo caso se il motivo preciso del giustizio sportivo qual è la motivazione il Napoli sicuramente farà ricorso perché è Napoli tolti 4 punti perché è uno in classifica ma sono tre per sette a tavoli in un e farà sicuramente ricorso andrà al TAR il TAR sta a Roma mi sembra e oltre ad andare al TAR sicuramente farà comunque ricorso al CONI eccetera eccetera e si andrà in tribunale perché sono sicurissima conoscendo della Vrentis e conoscendo un po' il nostro ambiente che il Napoli della Vrentis vada in tribunale quindi vedremo un po' se il ricorso verrà accolto e sicuramente se il ricorso verrà accettato e se ci danno solo una multa o rimane la decisione del 30 a tavoli o più il punto di penalizzazione e la Juve se non si presentava neanche lei in campo anche la Juve andava al 3-0 a tavolino eccetera eccetera quindi la Juve l'ha fatto abbiamo sbagliato noi per il semplice fatto che l'ASL Napoli ha detto se non andavamo l'ASL avevamo una diciamo come si può dire andavamo in galera contro l'ASL non puoi andare eccetera eccetera benissimo Napoli forse non doveva dire all'ASL che cosa devo fare perché l'ASL ti blocca però ha avuto paura dell'Aventis di contagiare tutta la squadra quindi umanamente lo capisco dell'Aventis però capisco anche che il protocollo a questo punto lo sappiamo da oggi in poi che il protocollo prevede che non puoi le ASL non devono contare nulla a questo punto ragazzi vedremo fa male fa male perché 4 punti cominciare l'anno con 4 punti in meno perché poi con la Juve potevo ripareggiare non è che devono forza vincere o perdere è brutto è brutto perché demotiva anche un po' i giocatori perché comunque partire con il meno 4 e dopo neanche due partite di campionato parti con il meno 4 ed è moralizzante per la squadra deve incontrare l'Atalanta sabato con il meno 4 la squadra scoraggiata dell'anno disarrabbiato Gattuso anche sarà molto arrabbiato Ringio e non è facile non è facile ma è un campionato che è sempre stato falsato perché non è stato falsato per questi punti ma in passato è stato falsato perché la Juve bene o male vince sempre lei come ha vinto anche oggi perché Agnelli forse se questa situazione era contro un'altra squadra avevamo qualche motivo di vincere contro la Juve non si vince mai perché lei ha troppo potere sia mediatico che economico e in Liga quindi in pratica hanno deciso loro perché la Juve ha potere potentemente in Liga vogliono ancora gli scudetti che ci hanno tolto per doping furiamoci se si arrendeva per 3-0 Agnellino ha pianto come sempre va bene così il Napoli non gli piace vincere facile al Napoli non gli piace vincere gradualmente gli piace vincere sul campo al Napoli quindi noi accettiamo testa bassa se il ricorso verrà accettato e ce li tolgono e ci danno una multa eccetera va bene così se non lo fanno va bene ugualmente noi siamo il Napoli ci piace vincere onestamente perché noi siamo napoletani e il Napoli non siamo la Juve che ci piace vincere a tavolino che sfizio c'è vincere una partita 3-0 a tavolino hai paura a quel punto la paura che la Cassi sotto è stata della Juve e non del Napoli perché dicevi fai una multa al Napoli e rigiochiamola va bene una multa però ti piace vincere facile ponci 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 può come sempre la Juve ti piace vincere facile ha vinto tanti campionati falsati non mi spaventa il meno 4 per un semplice fatto la Juve ha vinto tanti campionati falsati come due anni fa il Napoli di Sardi doveva vincere lo scudetto hanno rubato contro l'Inter va bene così lo accetto fa male e dispiace molto perché è come fosse un po' morto il calcio italiano per l'ennesima volta perché per quanto forse anche giusta la decisione perché c'è un protocollo da seguire però se veramente della Venezia ha chiamato l'ASL ha sbagliato perché comunque le ASL è vero che sono un ente regionale però se anche tutte le squadre lo fanno l'Inter c'ha 7 contagiati chiama l'ASL non si gioca più però devono scrivere nel nuovo protocollo che l'ASL non deve avere più voce in capitolo così devono scrivere le ASL non hanno devo avere più conto in capitolo va bene così ragazzi me l'aspettavo me l'aspettavo perché conosco la Juve perché conosco la Liga il campionato italiano e la Serie A che è una falsa incredibile giusto così però perché abbiamo sbagliato io l'ho sempre detto che il Napoli si doveva presentare poi un domani si mischiavano 30 giocatori della Juve prendevano il coronavirus il Napoli e altre squadre non erano cavoli nostri perché comunque noi il nostro l'avevamo fatto il Genoa ancora oggi ha tanti positivi e va a giocare va bene così per me hanno sbagliato le ASL napoletane se della Vendice non ha chiamato lui se ha chiamato della Vendice alle ASL ha sbagliato anche Napoli quindi della Vendice se invece le ASL hanno bloccato hanno sbagliato le ASL napoletane quindi va bene così ciao a tutti ragazzi da Alessa Napoletano forza Napoli sempre forza Gattuolo forza Ringho e fatemi sapere da sotto la vostra nei commenti ciao a tutti ragazzi da Alessa Napoletano Napoletano